infermiere subito dottore procediamo con la misurazione della pressione ecco il manometro e ma mi scusi dottore qui c'è qualcosa che non va certo signora non va e che aspettavamo il pezzo nuovo da napoli ma non è arrivato ancora se lo sono fottuto dottor e adesso come me la misura la pressione ma non c'è problema ci penso io signora usiamo i metodi antichi quelli non sbagliano mai lasci fare a me dunque 90 battiti al minuto minima 65,3 massimo 121,9 ha bevuto molto ieri sera signora due chili e mezzo di mozzarella caspita che dopo cena e qui vedo passione qui vedo trasporto qui vedo attività fisica qui vedo galoppo molto galoppo azz e qui vedo cimarina dottor e non guardi troppo che se viene mio marito qua ci ammazza tutte e due infatti ecco appunto stavo dicendo alla signora che è tutto regolare pressione e dopo cena è andato benissimo e che l'amica l'ha accompagnata a casa ecco regolarmente complimenti dottore è quello che ha fatto ieri sera la mia fedele mogliettina ma certo e cosa credevi non ho fatto nulla di più mazza e che volate fare qualcosa di più stati citto che la signora è una pecorella del nostro gruppo una pecorella smarrita del nostro greggio di nostro signore d'altronde i nostri esami approfonditi ecco ceriscono tutto sono molto contento di questa struttura di questi dottori di questo ospedale ospedale è una clinica a uff a uff a uff a uff